Musica Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 12 al 19. Gesù, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo e Giuda Escariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Amen. Cari amici, oggi abbiamo letto questo brano di Luca, dove c'è la chiamata che fa Gesù ai primi dodici apostoli, perché oggi festeggiamo Santi Simone e Giuda, due dei dodici apostoli, che abbiamo sentito nominare. Quindi, chiaramente, auguri e benedizioni a tutti coloro che si chiamano Simone, Giuda. Ma oggi, in particolar modo, vediamo che la chiamata che Gesù ha per questi due fratelli, non di sangue, ma fratelli in Cristo, è davvero speciale, ma è anche per noi. Innanzitutto, il modo in cui Gesù li ha scelti è speciale, ovvero sale sul monte a pregare e passa tutta la notte pregando Dio, ovvero in una relazione con il Padre. È una relazione con Dio Padre per avere discernimento su chi dovevano essere i suoi discepoli, per avere discernimento su quali persone chiamare e il giorno dopo scegliere. Ecco perché è molto importante la chiamata di ciascuno di noi, cari amici. Non solo parlo io come consacrato, come sacerdote, ma di ciascun cristiano. Non siamo cristiani tante volte, pensiamo, per tradizione. Perché i miei genitori erano cristiani, perché i miei parenti, perché tutti fanno così, perché si usa battezzare, cresimare, che purtroppo, diciamo, siamo dentro un po' in questa area, in questa atmosfera, un po' di tradizione. Ma dobbiamo prendere coscienza che invece è Dio che ci ha chiamati a seguirlo, è Dio che ci ha chiamato a qualcosa di più grande, è Dio che ci ha chiamato ad essere suoi discepoli, come Simone e Giuda. Non lo siamo, diciamo, solo perché i nostri discendenti erano cristiani, ma lo siamo per una chiamata dall'alto, chiamandoci per nome. E' Gesù che dice Luca, è Gesù che ha detto Pietro, Andrea, seguimi, Giovanni, Filippo, seguitemi, Bartolomeo, Simone, Giuda. E' una chiamata che è personale. Quante volte noi invece viviamo la fede come una scelta. Io scelgo di essere cristiano, io scelgo di essere religioso, io scelgo di credere in Dio, domani decido di non credere più in Dio, che era una favola. Dopodomani scelgo ancora di andare da Dio, poi decido di vivere da solo, poi provo un'altra religione. Ecco, prendiamo questa coscienza, perché siamo un po' inquinati dalla nostra storia, da una cultura dove dice, scegli quello che vuoi, prova tutte le religioni, prova anche a vivere da ateo, se ci riesci. Ecco, lasciamo da parte tutto questo. Andiamo direttamente al Vangelo in una prospettiva diversa. Io sono cristiano perché Gesù mi ha chiamato ad esserlo, perché Gesù mi ha chiamato ad aprire gli occhi di fronte al suo regno, di fronte alla sua presenza nella nostra vita. Ecco che cosa hanno oggi da dirci Simone e Giuda. Ci dicono che noi abbiamo un fondamento. Quel fondamento che lo sentiamo dalla prima lettura di oggi agli Efesini, capitolo 2, versetto 19. «Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Amen». Ecco che ogni cristiano è apostolo, cioè mandato da Gesù. Ogni cristiano è discepolo, cioè educato alla scuola del Maestro che è Gesù. Ogni cristiano, quindi, in seguito alla chiamata di Gesù risponde. E noi possiamo rispondere «Sì, Signore, eccomi, io vengo!» oppure diciamo «Signore, questa chiamata non mi piace, è scomoda, io voglio vivere in un altro modo». Lo possiamo fare, ma se lo seguiamo saremo benedetti. E San Paolo all'Efesini dice appunto questo, che la pietra d'angolo su cui deve essere fondata la nostra vita, che è la costruzione, è Gesù. Se noi cambiamo fondamento, la nostra casa, vi ricordate il video, il canto, «La casa sulla roccia»? Quando viene la tempesta, i fulmini, il vento, la pioggia, questa casa cade se non c'è Gesù. Ma se è fondata sulla roccia, dice San Paolo, agli Efesini, che cresce ordinata per essere un Tempio Santo e diventa un'abitazione di Dio. Ecco, allora io vi invito oggi a dire di sì al Signore, perché nella chiamata di Simone e Giuda c'è la mia chiamata ad essere cristiano, a seguire Gesù Cristo come mio Signore, mio Messia, mio Salvatore. E non è scontato. Non è il fatto vado in chiesa, non vado in chiesa. Il mio cuore oggi deve aderire alla chiamata di Gesù. E le diciamo insieme, grazie Signore, per come oggi mi chiami per nome. Pronunci il mio nome Luca, il mio nome Simone, il mio nome Giuda, il mio nome David e altri, qualsiasi sia il mio nome. Lo pronunci tu, Signore Gesù, mi chiami a seguirti. e io dico eccomi io vengo per partecipare al tuo regno, partecipare alla tua bellezza. Voglio che la mia vita sia edificata sopra di te che sei la mia roccia. Signore, io ti onoro in questo giorno. Voglio glorificare te sopra ogni cosa. E grazie, perché la tua chiamata è gratuita. E mi dono di partecipare con gioia alla grazia del tuo regno, sperimentando anche oggi che sei con me. Sei l'Emmanuele, un Dio vivo e risorto nella mia vita. A te, Signore, l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, cresciamo, alimentiamoci sempre in questa chiamata ad essere figli del Dio vivente. E queste campane insieme a me vi salutano. Grazie che mi avete accolto. Ciao, a domani. Adesso qui, oggi sono dove tu mi vuoi. Adesso qui, tu mi hai atteso, io seguo te. Adesso qui, oggi sono dove tu mi vuoi. Adesso qui, tu mi hai atteso, io seguo te. Sego te, 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 sego te. Adesso qui oggi sono